When the truth is found, to be lies, and all the joy within you dies, don't you want somebody in love, don't you need somebody in love, don't you want somebody in love, you better have somebody in love. I'm going to give you a good day. I'm going to start with the first episode of Kisdora on Kura. Today I'm going to get to know the Shire of the Mareyohanna, which is located in the Amun on the road. Amun is the center of the Kura, which is one of the most recent cities in Lebanon, which is about 4000 years before the year. This Shire is one of the most popular areas in Amun. It is on the long side of the wall, and there are many rooms that are located in the street, after the other, on a way of the Mareyohanna. The other one was located at the Kisdora in the Kisdora on the Mareyohanna, and in the 2000-28 room, which could be used to the families of the country. The area was more than 20 meters, and the area was located on the wall, not 30 meters. On this Shire, there was a very deep dive for the Tawar of the Finiq, which is coming from the upper edge of the Kisdora, Il nostro corso gratuito è stato fatto con i nostri amici Oggi andiamo a vedere un'altra parte di questa parte del giovane, che è stata fatta da parte dell'amore di Mário Hanna E' una parte più alta parte di tutti i giovani Questa è una parte più alta parte Il giovane, c'è un giovane con un giovane con un giovane e si sono stati sottotitoli con un giovane con un giovane con un giovane Questa è una parte più alta di 40 cm e la parte più alta di un giovane e ho scoperto un giovane con un giovane e russi e russi con un giovane con un giovane e anche queste russi sono stati con un giovane per la loro storia di più precedenti circa 3000 anni prima e magari più più Il giorno abbiamo riuscato a fare una scoperta di Mário Hanna e vediamo la prossima per la prossima per la prossima e la prossima e per la prossima restate